Grazie a tutti per essere qui in occasione del saluto ufficiale della Regione Marche, del CONI e del CIP della nostra Regione, della amatissima Regione Marche. Grazie a tutti gli atleti, i dirigenti, i tecnici che sono in partenza per rappresentarci nel migliore dei modi ai prossimi giochi olimpici di Parigi 2024. Le Olimpiadi tornano in Europa dopo due edizioni che si sono svolte a Rio de Janeiro nel 2016, a Tokyo nel 2021, anche se come tutti sanno l'edizione si è chiamata lo stesso per motivi di marketing 2020. Ci raggiunge nel frattempo anche l'altro ospite che stavamo aspettando. Volevo subito iniziare con una battuta. dedicata al Presidente Francesco Acquaroli, che volevo ringraziare, credo a nome di tutti, per averci fatto trovare una stanza azzurra. Gli facciamo un applauso perché è in tono sicuramente con la nostra nazionale, con i colori del nostro tricolore. L'altra cosa che mi viene da dire è che il Presidente Acquaroli non ha mancato all'indomani dell'ultima Olimpiade di Tokyo di celebrare lo sport e lo ha fatto dedicando un'intera giornata, la giornata delle Marche, che è la più importante che si celebra nella nostra regione, a Casterraimondo, invitando tutti i protagonisti dei giochi olimpici di Tokyo. E in più, siccome il 2021 è stato un anno veramente d'oro, ma noi sappiamo che sarà migliorato ancora, invitò il vincitore della Coppa Europa, nonché il nostro testimone, Roberto Mancini, Davide Mazzanti, che aveva vinto il titolo europeo nella pallavoro, e un certo Valentino Rossi, che qualcosa ha combinato finché ha corso con le moto e continua a farlo con le auto. Questo per dire dell'attenzione che la Regione Marche rivolge al mondo dello sport. E vorrei che proprio il Presidente Acquaroli aprisse questa serie di interventi, perché siamo tutti molto emozionati, Presidente. Io lo devo dire, non so se questo appartiene pure, ci diamo del tu, a te da sportivi. Grazie, Andrea. Buongiorno a tutti. Parto con i saluti, diciamo, di rito a Fabio Luna, a Luca Savoiardi, a te, Andrea, per il lavoro che svolgi e che hai svolto. Per me è sempre un grande onore, un orgoglio e anche enorme piacere essere con voi nei momenti più rappresentativi, ma anche nel confronto quotidiano delle vicende che riguardano lo sport nella nostra regione. E poi è un enorme piacere salutarvi e essere qui con voi, condividere questo momento, che è per noi marchigiani un momento particolarmente significativo, perché voi partite per un'avventura sportiva straordinaria, con voi portate l'Italia, ma portate anche un pezzettino nella nostra regione che è orgogliosa e sarà con voi. Quindi voi dovrete sapere che con voi ci sarà attifare tutta l'Italia, ci sarà un lembo della penisola che sarà particolarmente al vostro fianco. Dicevo, mi fa enormemente piacere per tanti motivi. Primo, perché i vostri successi rappresentano un po' il percorso di un territorio che sta crescendo tanto nello sport, con risultati straordinari a tutti i livelli e anche perché lo sport ha rappresentato per noi, per tante società, per tante amministrazioni, sono uno sforzo enorme per cercare di dare risposte in momenti complessi, in momenti difficili e quelle risposte che poi non sono mai tanto sufficienti, anche fatte sulle infrastrutture, sono lo strumento che aiutano a crescere e a raggiungere gli obiettivi. Poi un ringraziamento particolare va alle vostre società e a voi, perché per arrivare dove siete arrivati è veramente, penso che c'è uno sforzo enorme, è un sacrificio enorme che però mi mette in grado di confrontarvi a livello globale nelle rispettive discipline. Questo è veramente qualcosa che ci inorgoglisce, perché arrivare a quel livello significa veramente che si ha qualcosa in più e quel qualcosa in più è quel qualcosa che ci rende protagonisti e ci rende orgogliosi. Quindi veramente grazie. Io non vado oltre perché so che voi avete anche tolto tempo e spazio ai vostri allenamenti, alla vostra quotidianità, a quelli che sono anche i vostri affetti in un momento particolare, quindi non vogliamo rubarvi tempo, però la vostra presenza qui per noi e per le Marche oggi è particolarmente significativa. Quindi vi ringrazio per la vostra presenza qui oggi e soprattutto vi auguro, non so quello che si deve dire in queste situazioni, quindi non dico niente, vi auguro il meglio, vi auguro il meglio per le Marche e per l'Italia. Ok? E poi io vi do un appuntamento alla festa, alla giornata delle Marche. Comunque vada, noi vi aspettiamo perché nella giornata delle Marche sarà un'occasione magari più rilassata per tutti per vederci. Grazie, grazie Presidente. Questa mattina prenderemo anche qualche momento per presentarvi il quarto volume delle Marche a cinque cerchi. Prima però vorrei cedere il microfono, la parola al Presidente del CONI regionale delle Marche Fabio Luna, subito dopo sentiremo il Presidente Luca Savoiaardi e ancora l'assessore allo sport e prima della presentazione del libro, il Dottor Marco Broschini che ha caldeggiato l'iniziativa del quarto volume delle Marche a cinque cerchi. Presidente. Grazie, buongiorno a tutti, un caro saluto al tavolo e a tutti voi. La prima cosa che voglio dire è grazie a tutti voi che siete qui, atleti, tecnici, dirigenti, eccetera, perché come diceva adesso il Presidente Acquaroli avete tolto uno spazio importantissimo ad appena dieci giorni dall'inizio dell'Olimpiadi alla vostra preparazione per onorare un invito fatto da noi, dal CIP, dal CONI, dalla Regione, ma vorrei anche che cogliesse anche il nostro orgoglio del perché lo facciamo. Non lo facciamo perché vogliamo in qualche maniera mettervi in difficoltà, ma vorremmo veramente farvi arrivare il messaggio di quanto questa piccola regione, ma non piccola da un punto di vista sportivo, sta producendo e in voi praticamente vede realizzato quello che è il lavoro quotidiano che noi stiamo portando avanti. Pertanto, ecco, se voi riuscite a percepire l'orgoglio di una regione nei vostri confronti, noi abbiamo, diciamo, in qualche maniera realizzato il motivo di un incontro come quello di oggi. Voi sapete che a Parigi l'Italia sarà rappresentata da ben 403 atleti, che è il record assoluto. Non è mai successo che l'Italia avesse tanti atleti in una Olimpiadi e anche nella nostra regione, lo dico sottovoce, questa è un'Olimpiadi dove battiamo il record anche di partecipanti per quanto riguarda le Olimpiadi dal 1896 a oggi. Lo dico sottovoce perché non deve essere un motivo, però ogni tanto dire anche le belle cose ci fa piacere. Poi un'altra cosa, perché non voglio rubare tantissimo tempo, perché vorrei dare spazio e ascoltare le voci dei protagonisti, che ci tengo e non deve essere, tra virgolette, fatta passare in maniera silenziosa, il fatto che abbiamo ancora una volta il portabandiera che è una espressione del nostro territorio. Gianmarco Tamberi. Gianmarco Tamberi, che mi ha pregato ieri, l'ho sentito, mi ha pregato di portare il suo saluto. Questa mattina ci doveva fare una sorpresa collegandosi, magari c'era in condizioni normali, ma abbiamo preferito in questo momento lasciarlo un attimo tranquillo perché sta passando. Logicamente un momento non è facile, però mi ha detto e mi ha pregato di far pervenire a tutti quanti. a tutti quanti voi, soprattutto agli atleti, e vi ho dato appuntamento per il 26 di lungo la sede per la sfilata ufficiale che aprirà i giochi di Parigi. Ma quando parlavo di portabandiera, non me ne vogliano gli altri, però vorrei che sia una persona, una certa Giovanna Trillini, se ti puoi alzare, perché è stata la prima portabandiera della regione Marche nel 1996 ad Atalanta. Dopo di lei ci abbiamo avuto Valentina Vezzani nel 2012, adesso Gianmarco Tamberi. Nelle ultime otto edizioni delle Olimpiadi per ben tre volte il portabandiera è espressione di questa regione. A Giovanna, per chi magari non conosce bene i numeri, non vorrei dire una cosa sbagliata, correggimi, ti chiedo scusa se lo faccio, ma questa di Parigi per lei è la sua ottava Olimpiadi, cinque da tre e tre adesso con questo nuovo ruolo di tecnico, otto Olimpiadi è tanta tanta roba. E se non sbaglio con i numeri, mi sembra che vai a pareggiare le medaglie che hai vinto all'Olimpiadi, che hai vinto otto medaglie olimpiche. Pertanto, chiedo scusa a tutti gli altri, vorrei non aver toccato la suscettività di nessuno, ma penso che di fronte a persone che hanno scritto pagine importanti dello sport marchigiano, il CONI non può non essere riconoscente. Mi fermo qui, l'ho fatta anche lunga, perché mi piace ascoltare poi dopo le parole, ma una battuta, proprio una battuta, sul fatto che, magari verrà presentato, che ancora una volta, grazie alla regione Marche, perché è lei che crede in quest'opera, abbiamo realizzato il quarto, cioè Andrea Carloni, Andrea Carloni ha realizzato questo volume che per noi è importantissimo, vi dico che è l'unica regione d'Italia, l'unico CONI e CIP d'Italia che riesce a realizzare un'opera come questa, dove dentro ci sono, al di là delle storie, anche degli atleti, ma anche dei numeri che sono molto importanti, che vengono in qualche maniera portati e avere come testimonianza. Tutto questo è avvenuto grazie anche alla collaborazione con l'ATIME, che poi dopo magari con Bruschini andremo anche ad ascoltare. Pertanto, Andrea, veramente grazie, perché la tua professionalità ancora una volta l'hai saputa trasmettere in questo volume, che sarà motivo di orgoglio ancora una volta per tutti gli appassionati di sport e che al termine di questa cerimonia avremo il piacere di omaggiare a tutta la delegazione che partirà in Parigi. Grazie. Grazie al Presidente del CONI regionale delle Marche Fabio Luna e vi daremo naturalmente anticipazioni anche sui numeri, lo faremo soprattutto per i colleghi. Il Presidente ha già anticipato che sarà un'edizione da record dal punto di vista delle partecipazioni marchigiane. Ne parleremo fra poco. Prima però andiamo a sentire Luca Savoiardi, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico della Regione Marche, che orgogliosamente oggi ha portato qui anche dei campioni straordinari, ma non devo dirlo io, magari sarà lui a sottolinearlo. Grazie Luca. Grazie a te Andrea, grazie per l'invito, un saluto alle autorità presenti, un saluto amichevole agli sportivi presenti, sportivi per i quali oggi noi siamo qui. Sì, questa è un'iniziativa che io credo importante, interessante e importante, che come chi mi ha preceduto ha sottolineato che forse è l'unica iniziativa in Italia che viene fatta per questo appuntamento, per questa occasione. che dire, penso che sia stato detto già ampiamente abbastanza e quindi qualcosa di, io personalmente mi accodo e a quanto è stato già detto da chi mi ha preceduto. Personalmente per quanto riguarda appunto la competenza del mio ruolo posso dire che orgogliosamente il comitato lo sport paralimpico quest'anno, come già nelle precedenti edizioni, ma diciamo che quest'anno ha dato il contributo alla nazionale italiana che parteciperà alle Paralimpiadi con la bellezza di cinque atleti più un arbitro internazionale di basket in carrozzina. abbiamo inventato di un'unità rispetto allo scorso anno, questo lo dico per chi è amante dei numeri, ma sappiamo che oggi noi purtroppo o per fortuna la società è basata sui numeri e naturalmente io credo che questo sia il frutto di un lavoro costante, serio, quotidiano, fatto dalla base, quindi dalle società sportive che quotidianamente danno la possibilità a questi ragazzi di praticare attività sportive attraendone tutti i benefici che noi tutti conosciamo e che poi naturalmente come in tutte le discipline riescono anche a formare delle eccellenze come quelle che oggi giorno, che stamane sono qua. concludo perché sennò divento logorroico dicendo che augurando a voi tutti al di là dei Paralimpici Olimpici di approcciarvi a questa bella esperienza in maniera positiva non ce lo nascondiamo, andiamo lì per vincere l'Oper partecipare oltre che per partecipare e l'ultima cosa che un suggerimento che posso darvi è quello di dire che al di là dei risultati che porterete a casa cercate di fare, di vivere questa esperienza a pieno perché sicuramente vi porterà, vi arricchirà, arricchirà le vostre personalità. Grazie. Come sempre il Presidente Savoiardi non l'ha presa alla larga è andato dritto alla meta anche perché è abituato bene perché nelle Olimpiadi, nelle Paralimpiadi arrivano sempre medaglie dalle Marche. Adesso andiamo ad ascoltare Chiara Biondi, l'assessore allo sport e alle politiche giovanili della nostra regione Marche. Grazie innanzitutto, buongiorno a tutti, grazie per essere qui presenti. Oggi per noi è veramente un momento emozionante e ci fa assolutamente piacere. Saluto tutti i presenti al tavolo e soprattutto un saluto particolare e affettuoso a tutti gli atleti che sono qui oggi presenti, a quelli che non sono presenti ma che comunque ci rappresenteranno alle Olimpiadi del 2024. Un affettuoso saluto ovviamente anche ai dirigenti, alle società e ai familiari perché se oggi voi siete qui è sicuramente grazie al vostro impegno ma anche grazie a tutti coloro che vi sono a fianco durante gli allenamenti e quindi vi sostengono in ogni momento della vostra vita. Voi siete sicuramente un esempio, un esempio importante per noi e soprattutto anche per i nostri giovani perché comunque lo ricordo sempre che lo sport è una grande palestra di vita perché ci insegna e ci trasmette tantissimi valori in maniera particolare il gioco di squadra, il rispetto reciproco, la solidarietà ma soprattutto ci rende perché comunque anch'io in parte sono sportiva sicuramente più forti e più determinati. Quindi io in realtà vi faccio un augurio con il cuore perché vi auguro che affrontiate queste Olimpiadi con il coraggio, con la determinazione, con la passione con la quale siete abituati ad affrontare le vostre sfide sia dentro che fuori il campo. Quindi forza a tutti i ragazzi e onore. Grazie. Grazie all'assessore Chiara Biondi. Adesso vorrei andare dal direttore di Attima Marco Bruschini perché nel suo saluto alle Marche a Cinque Cerchi ha ricordato un paio di aspetti particolarmente importanti. intanto ha parlato di 109 medaglie conquistate fra Olimpiadi e Paralimpiadi mettendole insieme che credo sia veramente un sogno che dobbiamo perseguire quello di avere un'Olimpiade sola ma non so quando succederà. Prima succederà e meglio sarà. E poi che ogni personaggio, ogni atleta rappresenta orgogliosamente una regione e quindi il territorio. Quindi vorrei che ci spiegasse perché Let's Mark, che è il marchio che veicola Attim, ha deciso di affiancare questa pubblicazione, la quarta. Grazie. Intanto ho avuto un piccolo ritardo, ma c'ero perché da bravo direttore operaio sono andato a prendere le magliette Let's Mark e le abbiamo imbustate col Presidente Luna queste. Mi autogiustifico, no? Intanto grazie per tutto quello che fate, grazie per l'entusiasmo che mettete, grazie per la voglia di essere dei bravi sportivi e quindi anche essere dei bravi cittadini. Questo è molto importante. Io sono molto legato alla bandiera, faccio collezione di bandieri italiane dei vari secoli, eccetera, e penso che noi italiani in questi ultimi anni stiamo veramente amando di più il nostro tricolore. Ma il nostro tricolore lo amiamo ancora di più quando ci sono dei grandi eventi sportivi. E quindi ecco che lo sport diventa veramente un grande veicolo anche di orgoglio patriottico. Dovete fare il meglio, c'ha ragione il Presidente a dire che dovete vincere, però l'importante è che ci siamo pure. Ci siamo, ci andiamo con orgoglio e siamo una vera squadra. Una squadra di qua e una squadra di là. E questo penso che sia stato un grande sforzo del Presidente Acquaroli. che è un po' un atleta pure lui, perché con tutte le situazioni critiche che ci sono tutti i giorni, diciamo che... e poi comunque anche un camminatore. Diciamo questo, mi ha svelato questo scoop. e quindi diciamo che sa quanto sia importante. Io un po' meno, insomma, perché sono più da sharing, diciamo, con le sedie. Se facessero questa nuova disciplina olimpica del sharing, potrei gareggiare. No, perché? Perché chiaramente noi stiamo cercando di far sì che tutte quante le eccellenze delle marche promuovano le marche eccellenti. Ecco, questo binomio, quello che io chiamo contaminazione, è una cosa, secondo me, fondamentale, che sta dando i risultati positivi che stiamo vedendo nel discorso ovviamente turistico, perché a noi ci interessa come Atim quello che è la promozione turistica, ma la promozione di un territorio, la promozione di una regione meravigliosa e voi siete tutti portabandiere delle marche. Ognuno di voi rappresenta la regione, rappresenta l'Italia, rappresenta tutti noi e quindi noi affidiamo la nostra emotività, la nostra forza, la nostra energia a voi per avere il massimo risultato. Grazie di quello che farete. Grazie, grazie al direttore Marco Bruschini. Adesso ci prenderemo qualche minuto per presentare il quarto volume delle Marche a Cinque Cerchi con una puntualizzazione, prima lo ricordava il presidente Fabio Luna, su indicazione del presidente Malagò negli anni precedenti e anche altre regioni sono state stimolate a realizzare un lavoro come questo. Alcune ci hanno provato, nessuna finora ci è riuscita. Questo ci fa sentire orgogliosi anche di questo. Lo diciamo soprattutto perché siete voi, con i vostri risultati, che ci stimolate a metterli da una parte e tenerli per chi verrà dopo di noi su carta, anche se oggi viaggia tutto via internet, però avere la possibilità di toccare con mano quelli che sono i risultati. Per esempio, che abbiamo vinto 53 medaglie alle Olimpiadi nella storia, nella storia dei marchigiani, quali sono stati i primi che hanno vinto. Tra l'altro, in ogni edizione, in ogni nuova edizione delle Marche a Cinque Cerchi, riportiamo anche un po' di quello che c'è in precedenza, per cui c'è la possibilità, anche se qualcuno magari si è perso il primo numero, di avere comunque la situazione attuale. Con l'ultima edizione, quella di Tokyo, siamo tornati ad avere una medaglia d'oro, che non era invece arrivata in precedenza a Rio, per quanto riguarda le Olimpiadi. Però prima, fatemi ringraziare chi ha collaborato alla realizzazione di questo libro, e ringraziando per prima cosa ovviamente la Regione Marche, ma anche il CONI di Roma, il CIP di Roma, e ovviamente il CONI delle Marche e il CIP delle Marche, ma anche Giocom, che ha curato e cura la grafica fin dal primo numero. Dovrebbe esserci qui Raffaele Giorgetti. Li fate un applauso per favore, perché lui è l'autore della grafica insieme a Massimo Alessandrelli. E ringrazio anche Artelito di Casterraimondo che ha stampato questa edizione. Mi piace anche sottolineare che i quattro volumi sono praticamente identici, ma sono stampati da quattro tipografie marchigiane diverse, perché ogni volta abbiamo fatto una gara per avere le condizioni migliori, anche questo penso che andasse sottolineato. All'interno ci sono i saluti del Presidente Malagò, del Presidente Acquarodi, del Presidente Luna, dell'Assessore Biondi, del Direttore Bruschini e anche le sensazioni di Gianmarco Tamberi quando ha appreso la notizia che il Presidente Malagò e il CONI avevano deciso di farlo diventare alfiere insieme ad Arianna e Rigo per i prossimi giochi di Parigi. All'interno delle Marche a Cinque Cerchi c'è il racconto di come Gianmarco Tamberi che ha vissuto quell'oro condiviso con Barshim ma c'è anche il diario di Alice Volpi e Martina Centofanti. Possiamo fare loro un applauso perché sono state le vincitrici delle altre due medaglie alle Olimpiadi e mi piace sottolineare che hanno scritto loro quello che troverete nel libro e Alice lo ha fatto mentre gareggiava a Shanghai quindi me l'ha mandato da lì e Martina Centofanti da Baku quindi questo per dire quanto ci hanno tenuto a essere dentro a questo racconto. C'è poi la storia dei dirigenti dei tecnici che hanno preso parte anche dei sanitari dei preparatori e dei reporter che sono stati a Tokyo le curiosità che non finiscono mai c'è una foto molto particolare di Milena Baldassarri che sbuffa un po' perché non so se ti sei rivista perché adesso Simone ci sta facendo eccola lì la vedete in basso a sinistra perché queste mascherine non se ne poteva veramente più perché quella è stata l'Olimpiade del Covid naturalmente quindi molto particolare c'è anche una foto di Stefano Cerioni che è arrivato a quota 9 partecipazioni all'Olimpiadi facciamo un applauso anche a lui perché mi sembra tanto e poi che cos'altro aggiungere naturalmente ci sono i saluti di Luca Pancalli presidente del CIPO oltre che di Luca Savoiardi che ci rappresenta qui nelle Marche i risultati dei marchigiani ai giochi paralimpici fra le curiosità non manca quella dei famosi 11 minuti che sono trascorsi tra la medaglia d'oro di Gianmarco Gimbo Tamberi e quella di Marcel Jacobs che ricorderete Gimbo andò ad abbracciare Marcel che stava tagliando il traguardo dei famosi 100 metri con 980 che è ancora il primato europeo e poi il diario di Assunta Legnante mi fate un applauso a questa signora qui in prima fila che insomma è lei che soffia sul nostro medagliere e che non torna mai a mani vuote dai giochi paralimpici ha accanto a sì Giorgio Farroni che merita un altro applauso sapete perché? Perché Giorgio Farroni che è diciamo la new entry di coloro che andranno a Parigi perché lo abbiamo appreso ieri con Parigi 2024 diventerà l'atleta che ha partecipato a più edizioni di Paralimpiadi 6 e facciamo un applauso anche per questo perché poi a 5 ci sono Giovanna Trillini Liano Rossini e Valentina Vezzali insomma tanto per per dire e ricordo qui vi chiedo un altro applauso le nove medaglie olimpiche di Valentina Vezzali troveremo sul libro anche il diario di Diana Diang diario di Tokyo che poi ci ha mandato un saluto che sentiremo più avanti non manca anche il riferimento all'unico atleta marchigiano che ha partecipato ai giochi invernali di Pechino io sono convinto che molti di coloro che sono in questa sala non sanno che avevamo un atleta anche alle olimpiadi invernali di Pechino e si tratta di Alex Pagnini che è di Gradara che c'è un sacco di neve a Gradara lo sappiamo è una delle qualità montane più frequentate in assoluto ora ha partecipato nel Boba 4 in Italia 2 nella seconda squadra dell'Italia perché è un ex velocista e voi sapete che nella spinta per il Boba ci vuole molta velocità non aggiungo altro dico solo che all'interno ci saranno tutti gli orari ma tutti di tutte le gare delle olimpiadi e delle paralimpiadi quindi un libro da tenere vicino dal 26 luglio in poi grazie adesso però ci proiettiamo nel futuro e lo facciamo presentando i personaggi che ci rappresenteranno o perlomeno qualcuno abbiamo sentito il presidente Luna raccontarci di Gianmarco che è rimasto vittima di questo infortunio ma insomma lui ci sta rassicurando non c'è con noi Simone Barontini perché anche lui sta recuperando da un infortunio che però non gli impedirà di partecipare questo per quanto riguarda l'atletica avremo una partecipazione straordinaria dei nostri ginnasti e ginnaste mai successo in questo modo e io vorrei subito invitare chiedendo a Cinzia di raggiungerlo Marco Fortuna tecnico della ginnastica artistica per salutarlo e per dirci di questa cosa meravigliosa di tre marchigiani noi sa che facciamo il tifo per le marche lei ovviamente li segue tutti ma tre su cinque marchigiani è tanta roba sì direi che è tanta roba veramente questi ragazzi sono tutti di fermo cioè Lorenzo è di Ancona gli altri sono di fermo e lavorano tutti a fermo insieme a me che sono ovviamente morotecnico e questo in questi ultimi anni c'è stato un ottimo degli ottimi risultati tra mondiali e europei e loro hanno sempre fatto parte della squadra magari un pochino a turno e poi ci siamo ritrovati qui tutti e quattro alla nostra prima esperienza olimpica bene in bocca al lupo grazie salutiamo Giuseppe Cocciaro che è il direttore tecnico dell'artistica e del trampolino elastico che però è febbricitante sì sì non c'è perché sta male però gli porti i nostri saluti questo senza altro è sempre ovviamente a noi vicini anche lui marchigiano certo di Porto San Giorgio trapiantato a Fano benissimo bene adesso però passiamo al microfono Cinzia a ognuno di loro perché io volevo sentire la voce di tutti chi comincia Carlo Macchini cominci tu come ci arriviamo a Parigi Carlo pieni di speranza e orgoglio senz'altro perché è un percorso che viene da molto lontano quando ero piccolo sognavo questa cosa e probabilmente ancora non ho realizzato il fatto che ci stiamo per arrivare ecco ci ho creduto veramente tanto soprattutto fino alla fine perché in questo percorso non è sempre stato scontato poter partecipare nell'ultimo periodo diciamo che ho concretizzato bene eccoci qua tra i convocati per le Olimpiadi bene andiamo da Mario Mario Macchiati sarà la tua prima no? quindi un'emozione particolare beh sicuramente come sempre l'Olimpiade è un sogno di ogni atleta quindi averla raggiunta è sicuramente un'emozione grande quindi cercheremo di divertirci di affrontare la compassione e poi chi sa quello che verrà bene grazie grazie anche a te Lorenzo Lorenzo Casali il fatto che voi vi conoscete tutti naturalmente nell'ambito della ginnastica però il fatto di essere tre che partono dalle marche vi danno anche un po' più di forza? beh sicuramente è un un valore aggiunto per per a livello umano per noi perché comunque ci conosciamo già ci siamo ci siamo allenati ormai da tanto tempo ci alleniamo insieme e sicuramente è un'esperienza che possiamo condividere in modo diverso diciamo perché comunque è un conto allenarsi uno a Milano uno a Roma ma praticamente adesso viviamo insieme quasi vedo più loro che i miei genitori succede quindi sicuramente è un'emozione unica perché comunque è l'Olimpiedi ogni quattro anni quindi non è un evento da tutti i giorni e vediamo cosa succederà bene 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 allora grazie quando prima mi riferivo al fatto che la ginnastica ci sta dando tantissime soddisfazioni non dimentichiamoci mai che abbiamo un presidente federale marchigiano Gerardo Tecchi facciamo la plaza anche a lui naturalmente adesso andiamo all'artistica andiamo da Claudia Mancinelli che è la ritmica scusami 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 mamma mia scusami scusami siete parenti parenti stretti artistica ritmica certo andiamo da Claudia Mancinelli perché voi sapete che noi abbiamo una tradizione della ritmica straordinaria Fabriano ho visto sul sito Fabriano capitale mondiale della ritmica se volete se volete dirci che non è vero fatevi avanti che noi siamo qui che vi aspettiamo e c'era preoccupazione io voglio dire conosco Giulietta Cantalupi da tantissimi anni c'era preoccupazione da parte di alcuni di che cosa poteva succedere non avendo più Giulietta Cantalupi alla guida di queste meraviglie qui che fra un po' sentiremo e loro più le altre che sono dietro invece posso darti del tu da sportivo invece arriva Claudia Mancinelli che con molta umiltà si mette alla guida si mette alla guida di questa macchina perfetta e continua con la velocità di prima cioè non ha un intoppo mai e questo merita un altro applauso perché non è facile rilevare un testimone da chi sta facendo e ha fatto la storia della ritmica brava anche di questo adesso però non è che abbiamo risolto nel senso che ci sono tutti i riflettori addosso e allora ci stiamo impegnando tanto non non ne procediamo di un millimetro giorno per giorno e adesso insomma siamo concentrate sono questi ultimi giorni di allenamento e stamattina siamo state in palestra molto presto per non perdere niente diciamo che siamo molto concentrate sul momento presente adesso io ho passato il futuro non lo guardo perché se no è difficile diventa tutto più difficile però siamo molto orgogliose e vabbè loro anche abbiamo due individualiste in Italia tutte e due vengono dalla società ginnastica Fabriano quindi anche questa è una cosa importante ovviamente un ringraziamento a Maila Morosin che ci ha portato diciamo ci ha traghettato con la società e ci ha fatto ci ha permesso di arrivare fino adesso possiamo fare un applauso a Maila Morosin per cortesia grazie e per il resto niente in bocca al lupo a tutti gli atleti in bocca al lupo alle nostre due ragazze e passo la parola a loro grazie Claudia grazie grazie ora alle Olimpiadi di Tokyo abbiamo avuto per la prima volta un atleta che è entrata in finale all around nella gara di ritmica individuale quest'atleta risponde al nome di Milena Baldassardi e chiedo di alzarsi che è la capitana della ginnastica Fabriano quello era un traguardo adesso ce ne mettiamo un altro direi vabbè in questi tre anni perché ovviamente il quadriennio si è un po' accorciato l'obiettivo è sempre stato comunque di migliorarsi e vabbè grazie anche nell'ultimo anno a Claudia e poi alla mia compagna Sofia comunque siamo riusciti appunto a qualificarci tutti insieme sicuramente sarà un'esperienza magica perché a Tokyo non essendoci stato il pubblico è stato un po' particolare come edizione quindi non vedo l'ora di vedere com'è il palazzetto pieno bene e grazie per quello che ci state regalando tanto già lo sapete ma Milena è stata anche una bambola lo sapevate? fate finta che lo sapete non facciamo brutte figure è stata una bambola della Mattel non è che non è così semplice poi tra l'altro da tipo novembre fino a febbraio del prossimo anno dovrebbe essere esposta insieme a tutte le altre me l'hanno chiesta indietro appunto per essere esposta quindi bravo facciamo un applauso pure per io dottor Bruschini questa è promozione vera perché insomma la Barbie adesso benissimo io adesso sono veramente molto emozionato perché come faccio a chiamarla formica atomica io non ce la faccio perché è solo atomica Sofia Raffaelli buongiorno a tutti allora non ho avuto molte occasioni per dimostrare la gratitudine che ho provato quando hai fatto degli interventi molto mirati per particolari momenti in cui la nostra popolazione era in difficoltà io lo ricordo bene e avere un pensiero per chi soffre in un momento di gioia e di gloria come stavi vivendo ti rende molto nuore io ti farei un applauso anche per questo e poi senti noi quando tu gareggi siamo lì insomma col cuore che palpita e tu questo lo sai e siccome ci regali sempre tanto noi abbiamo delle aspettative ci devi convivere con questa pressione come si fa diciamo che ormai ci convivo da anni da quando comunque sono diventata senior vincendo ecco il primo mondiale diciamo è partito un po' sono partiti i motori per riuscire anche a inseguire questo sogno per Parigi diciamo che la strada è stata lunga anche un po' dura però con Claudia diciamo ci siamo trovate subito bene siamo riuscite a far ripartire subito ecco sia me che Milena al massimo stiamo lavorando tantissimo in questo periodo per raggiungere veramente il massimo e di cercare di arrivare alla perfezione per arrivare alle olimpiadi e godercele al meglio e sicuramente con una concentrazione al top senti vuoi farci capire cosa intendi per stiamo lavorando tantissimo quante ore al giorno? vabbè otto ore al giorno però diciamo che il lavoro nella ginnastica soprattutto non si limita solo a fare bene ma a curare ogni minimo dettaglio un braccio una difficoltà qualsiasi cosa quindi diciamo che a ogni esecuzione che facciamo bisogna cercare sempre di fare un pezzettino in più quindi in questo periodo stiamo veramente lavorando su ogni particolare grazie Sofia per esserci grazie allora noi abbiamo anche altri personaggi naturalmente qui che sono collegati Michele Ragni per esempio stand up grazie un applauso te lo facciamo prendere vuoi farci un intervento a nome di tutti coloro che rappresenti anche nelle altre discipline l'importanza del masso fisioterapista dei terapisti la vicinanza a questi atleti che sono delle bomboniere no? beh sì un'esperienza particolare comunque si vive un mondo che è diverso dalla nostra normalità per quanto riguarda la terapia comunque lo sportivo sul campo è una situazione impegnativa comunque richiede altre diciamo altre tecniche altre valutazioni rispetto alla normalità te la ribalto gli atleti e le atlete si rendono conto di quanto siete importanti? sì beh parlando di loro devo dire di sì quindi anzi le ringrazio perché comunque aiutano anche il nostro lavoro perciò ecco grazie ora io sto saltando alcuni poi li citerò naturalmente quelli che non sto nominando vorrei chiedervi però un applauso per un atleta straordinario giovanissimo che è letteralmente esploso nel nuoto Alessandro Ragaini facciamo un applauso perché veramente noi aspettavamo altri ha vinto il titolo europeo domenica quindi insomma 17 anni quindi vuol dire che ha un futuro importante davanti poi ci sono i pallavolisti che sono in ritiro e sono Fabio Balaso noi li consideriamo marchigiani perché giocano nelle squadre marchigiane e quindi ci sono due lube e due megabox Vallefoglia adesso vi li cito tutti Fabio Balaso Mattia Bottolo abbiamo Piero Benelli che è il medico sociale della nazionale maschile di pallavolo e poi Gaia Giovannini e la De Gradi che sono della formazione della megabox quindi quattro pallavolisti due nella maschile e due nella femminile non sono marchigiani ma rappresentano società marchigiane e ancora andiamo avanti perché adesso abbiamo già detto di Stefano Cerioni che non è presente che è il primatista di partecipazione all'Olimpiadi fra quelle da atleta e quelle da tecnico ma qui abbiamo l'abbiamo già celebrata ma non finiremo mai di farlo un monumento dello io lo sai che io così ti ho battezzato e sempre così ti chiamo Giovanna Trellini in piedi grazie 5, 4, 9 sono 5, 3, 8 5, 3, 8 vero? sì le Olimpiadi li giochiamo all'8 com'è? com'è da tecnico? da tecnico è diverso che da atleta sicuramente perché da atleta sei focalizzato su te stesso e cerchi di migliorare tutto giorno per giorno da tecnico ti devi adeguare ad atleta con cui lavori e capire le esigenze dell'atleta quindi devi cambiare anche da atleta atleta perché magari trovi quello che ha bisogno della Parolina Dolce trovi quello che invece vuole essere scosso e quindi non è semplice da tecnico poter collaborare e cercare di portare al meglio l'atleta sicuramente faccio un passo indietro e vado dall'atleta hai consapevolezza di che valori hai trasmesso vincendo una medaglia d'oro nel 1992 a Barcellona con un legamento di ginocchio andato? sì credo di averla un pochettino di consapevolezza perché mi ricordo ancora quando sono andata a fare la risonanza magnetica subito dopo l'infortunio il dottore che mi è venuto lì mi ha detto qual è il tuo sogno di partecipare alle Olimpiadi e questo mi disse scordatelo e io l'ho guardata e mi ha dato la risposta indiretta della risonanza che sono ristorata e crociata fortunatamente ho avuto a fianco in quel periodo una persona che purtroppo adesso non c'è più che è il professor Bruno Cacchi che era preparatore atletico un maestro che era Giulio Tomassini che adesso vive in Francia che hanno creduto in me e abbiamo fatto un lavoro pazzesco in acqua all'epoca era un lavoro rivoluzionario adesso è quasi vecchio come lavoro però fa tutta la preparazione in acqua perché non potevo appoggiare il ginocchio ogni volta che l'appoggiavo si gonfiava e quindi nascondere il tutto al commissario tecnico perché ho avuto tanto di quei mal di pancia in quel periodo che nessuno se ne immaginava e diciamo che la capabilità la volontà io avevo già saltato l'Olimpia di Seul secondo me per una scelta tecnica che non era giusta però a volte dobbiamo accettare anche queste cose qua e sono arrivata a Barcellona con tutta la voglia tutta la grinta e tutta la tigna per poter raggiungere l'obiettivo che mi ero pensato tutta in finale la Wang è una cinese che non ho più rivisto l'ho rivisto dopo vent'anni in America non so grazie grazie allora per presentare il prossimo campione mi rifaccio a questo volume perché eravamo stavamo pensando se raccontarlo o no perché a Tokyo è andato da numero 5 quando la squadra al massimo è composta di 4 3 più 1 per partecipare alla gara squadra pensate che da quinto a Tokyo sono passati 3 anni oggi va a Parigi da campione del mondo in carica e da numero 1 nel ranking mondiale Tommaso Marini grazie mille la tua storia racconta un'esplosione o qualcuno ha sbagliato a Tokyo un po' tutti e due secondo me un po' tutti e due io credo di di essere esploso ma comunque le possibilità le avevo anche al tempo poi purtroppo c'è stato il periodo del covid che non ha aiutato nessuno di noi quindi quello sicuramente c'è un pochino rallentato però è acqua passata ora dobbiamo pensare al presente e al futuro ecco il presente ci racconta che ogni sfida che fate penso per esempio alle gare di Coppa del Mondo è sempre durissima perché mentre molti anni fa non c'era una partecipazione così straordinaria numericamente e qualitativamente di atleti fiorettisti ma non solo fiorettisti adesso veramente la concorrenza è spietata sì assolutamente sì ora diciamo che i primi 16 anche 20 del ranking mondiale sono tutti atleti veramente molto forti con cui è possibile perdere noi cerchiamo di perdere il meno possibile però succede quindi inevitabilmente il livello è molto molto alto e bisogna cercare di tenere l'attenzione sempre al top e sbagliare il meno possibile quando vai da numero uno la pressione è tanta come si gestisce ma oramai diciamo che non è la prima volta che sono numero uno nel ranking quindi ma io onestamente non è che mi interessi tanto cioè non non ne fai un problema no io vado lì mi diverto se riesco a vincere bene se no ragazzi mi diverto è bellissimo grazie anche perché noi facciamo sport lo sport deve essere un sinonimo di divertimento di portare dei valori sani non possiamo solo pensare di vincere e basta così siamo bravi tutti invece c'è anche tutto quello che uno sportivo può portare dietro e dobbiamo vivere un po' tutto con la leggerezza perché facciamo un lavoro più bello del mondo cioè nessuno ci ci fa diciamo con la pistola puntata ecco e quindi dobbiamo cercare di essere tranquilli se vinciamo siamo tutti felici se non vinciamo ci riproveremo grazie Tommaso anche di questo grazie della pattuglia acrobatica della scherma che ha regalato tantissimo alle marche tanto da far dire al presidente Malagò che senza le medaglie della scherma il medagliere dell'Italia sarebbe come quello della Grecia e quindi questo già dice lunga ma ci saranno anche Annalisa Coltorti come preparatrice atletica e Stefano Vandini come fisioterapista e Alice Volpi alla quale facciamo un applauso lei ha vinto a squadre a Tokyo è campionessa mondiale in carica avendo vinto come Tommaso Marini a Milano il titolo mondiale passiamo al tennis ah il presidente della scherma allora dobbiamo salutare tutti i presidenti però se ne sono tanti però lo facciamo con Maurizio della Bella ma a tutti i presidenti delle altre federazioni che sono presenti naturalmente grazie per essere qui e volevo parlarvi del tennis perché anche lì insomma stiamo raccogliendo grandi soddisfazioni è a Perugia ieri mi ha mandato un messaggio sua mamma dicendomi che è alle prese con i posti per un infortunio adesso chi ha qualche infortunio sta cercando rapidamente di mettersi a posto Elisabetta Cocciaretto tennista nata ad Ancona ma naturalmente macerattese a tutto tondo che sta facendo una grande stagione e come anche Luciano Darderi che pure lui sarà alle Olimpiadi con Simone Bagnozzi che è il tecnico di Yannick Sinner quindi facciamo un applauso anche a voi vedo qui il presidente della federazione vela e questo mi fa pensare che non possiamo dimenticarci di un altro nostro campione che si sta allenando in Sardegna dove vive e adesso è in Francia vive a Cagliari Riccardo Pianusi facciamo un grande applauso lui gareggerà nella formula kite è in preparazione e naturalmente anche da lì qualcosa possiamo aspettarci perché ha ottenuto veramente straordinari risultati sia a livello europeo che mondiale non so se ci ha raggiunto Giulia Cicchine eccola qua andiamo da Giulia con un microfono grazie lei potrebbe parlare anche senza visto che ce le racconterà le Olimpiadi per Eurosport scusa se ti do le spalle vai tranquillo scusami tanto allora Giulia tu eri a Tokyo ti raccontiamo nelle marche a Cinque Certi per le tue interviste nella pallacanestro ma anche con Jimbo e con Marcel Jacobs che insomma vuole dire tanta roba ti è capitata non c'è il basket purtroppo stavolta che so che è una delle tue passioni principali però come ci arrivi a questa seconda questa seconda partecipazione all'Olimpiadi tenuto conto che in quelle Olimpiadi del Covid eravate molti di meno no? mi sa come inviati quindi è stato più difficile esserci esatto ciao a tutti intanto è molto se posso io parlo tanto quindi a un certo punto bloccatemi perché sennò inizia a essere complicata è molto figo essere qua e sentire anche le vostre voci e i vostri i vostri propositi verso Parigi perché mi stanno mettendo un sacco di carica quindi grazie atleti e allenatori e preparatori perché mettete carica anche a noi che dall'altro lato dobbiamo cercare e è stato così a Tokyo di spronarvi perché comunque a Tokyo c'eravamo solo noi come giornalisti ma anche come vostri tifosi quindi questa cosa me la porto me la porto tanto dietro da quell'Olimpiadi che è stata tosta perché come dicevate prima voi non c'era non c'era il pubblico quindi vedere lo stadio vuoto era lo stadio i palazzi le arene era molto triste però sapere di essere lì come giornalista ma come tifoso è stato molto bello si è creato un bel rapporto e spero che si possa creare anche con voi a Parigi non mi ricordo la domanda di solito le faccio io come ci arrivi con entusiasmo spero con una memoria migliore rispetto a quella con cui sono qua oggi ci arrivo molto contenta molto contenta perché come per voi è difficilissimo anche per noi qualificarci alle Olimpiadi perché io lo interpreto sempre come una specie di qualifica perché prima devi avere la fortuna di lavorare nel broadcaster che ha quel determinato diritto olimpico in Italia sapete ce ne sono due quindi devi avere capite che è difficile poter lavorare in uno dei due io ho avuto la fortuna di capitare in quello che ce li ha che è World of Pros Discovery quindi Eurosport e che poi per altra fortuna ha rinnovato anche per il prossimo quadriennio olimpico quindi qua se dobbiamo parlare di botte di fortuna direi che per fortuna intanto facciamo Ambo facciamo Ambo poteva essere pure Eterno poi è arrivato il Covid perché avrei dovuto fare anche le Olimpiadi Invernali di Pechino però col Covid e le restrizioni che c'erano in Cina era molto complicato portare tante persone dall'Italia o da qualsiasi parte del mondo quindi il motto è stato tagliamo perché più tagliamo meno siamo meno ci contagiamo il problema è che le altre parti del mondo non è che hanno fatto lo stesso ragionamento quindi è stata tagliata solo l'Italia ma questo è un altro discorso che poi Giulia diciamo che ne sanno i cinesi del Covid ma niente grazie Giulia Cichine ora come finiranno le Olimpiadi inizieranno le Paralimpiadi questo succede sempre ogni volta e noi anche lì come ci ricordava prima Luca Savoia saremo molto ben rappresentati e lo saremo anche da Cannoncino perché è così che è soprannominata la plurimedagliata olimpica e mondiale Assunta Legnante che innanzitutto chiedo scusa chi sta dietro di me il sole è finito allora tu hai il potere di metterci sempre di metterci sempre sulla sinistra sulla sinistra da quinto da quinto perché tu sei una che segui il calcio molto lo stesso nostro calcio anche quello del presidente ma questa è un'altra storia intersempra senti no Assunta tu hai il potere fra l'altro di metterci sempre di buon umore ma mi dici come fai le mie origini forse sono quelle tanto sono rimaste quelle perché sono marchigiana ormai anche dopo 25 anni sono marchigiana a 360 gradi sì sarà sarà quello le mie origini napoletane comunque il prendere come ha detto prima Tommaso il divertirmi nonostante le difficoltà e quindi quella è la cosa principale senti a a Tokyo due altre altre due medaglie dopo gli ori delle Paralimpiadi precedenti non ti è passata io ti vedo che non ti è passata ancora no non può passare nel senso che dopo Londra cioè questa è la mia terza Paralimpiade quarta quarta questa è la quarta più un Olimpiade quella di Pichino una non te l'hanno fatta fare una non me l'hanno fatta fare l'avrei già battuto e sì la mia quarta però è diciamo quella un po' più in là con gli anni ma è anche quella dove ho un senso di rivincita rispetto a Tokyo anche se è un po' irrispettoso dire così perché io me ne sono accorta solo dopo essere tornata da Tokyo che due argenti per una che a ottobre 2020 si è operata alla tendine d'Achille e poi allenarsi in quattro mesi andare lì e vincere due argenti con un record europeo forse era pure abbastanza senti mentre ti faccio questa domanda fai finta che io ti consegni un ferro di cavallo ok adesso come stai invece come ci arrivi a Parigi in piedi in piedi e già quella è una cosa positiva e no no sto bene stiamo lavorando bene però ogni gara è una gara a sé nel senso che ci sono anche le avversarie sappiamo anche perdere ma ci piace vincere bella grazie Assunta grazie allora ho già anticipato che è stato la new entry perché è proprio di ieri la notizia della sua convocazione a Parigi dopo cinque Paralimpiadi una saltata nel mezzo Giorgio Farroti paraciclismo buongiorno a tutti quante medaglie alle Paralimpiadi lo vuoi ricordare? tre tre quanti mondiali vinti? nove un po' più forte sennò nove non si sente capito no l'hai detto come se fosse ma cosa mangio? ma non me ne spagetti a bongole no nove nove titoli mondiali anni perché agli uomini si può chiedere 47 uguale un esempio per tutti nel senso che si può continuare tanto me ne hanno tanti e meno senti mi sa che questo fatto di aver saputo così tardi di andarci a Parigi finirà col darti ancora più stimoli o sbaglio? allora io mi ero detto che comunque l'Olimpia l'ho fatta quindi non è una cosa diciamo che vorrei fare così perché se andavo a Parigi era per far risultato e forse tutto quello che mi è successo quest'anno mi ha dato ancora più carica e venderò a cara la pelle diciamo allora grazie e se Assunta Legnante è soprannominata Cannoncino Giorgio ha soprannominato il Mago ci vuoi spiegare perché poi dopo la chiudiamo qui? sì praticamente riesco adesso l'abbrevio la situazione però riesco a risolvere sempre tutti i problemi che vado a incontrare quindi questo conferma che la convocazione di ieri non è stata alla fine casuale una magia vuoi dire diciamo che sì grazie Giorgio grazie allora se se Simone dalla regia è pronto adesso vorrei farci ascoltare un saluto che ci arriva da Federica Sileone che si trova in Inghilterra in preparazione lei è una cavallerizza gareggerà nella equitazione nel paradressage ha già partecipato ai giochi di Tokyo che sono stati i suoi primi e fatta quell'esperienza forse adesso ci va ancora più con determinazione ascoltiamola ciao sono Federica Sileone un atleta di paradressage Parigi sarà la mia seconda Paralimpiadi dopo Tokyo 2020 e sarà un'emozione grandissima è per me un onore rappresentare la nostra nazione in un evento così importante e ce la metterò tutta un saluto alla mia regione del cuore e la regione Marche grazie grazie Federica abbiamo un altro saluto simpaticissimo poi andiamo a chiudere con una star un'altra star di tutte quelle che abbiamo presentato oggi il saluto ci arriva da Ndiaga Dieng detto Cenga che ha vinto una medaglia a Tokyo nei 1500 metri e che è anche lui in preparazione ascoltiamolo perché ha fatto una serie di ringraziamenti tale che non finisce più assunta forse l'ha sentito e già ride sentiamolo dai simpaticissimo ciao saluto il presidente delle Marche per tutti i presenti grazie mille alla federazione di SPD grazie grazie mille alla federazione FISPES e l'Antropos grazie per lo sostegno faccio un bocco al lupo agli atleti di Paralimpiadi e Olimpiadi vi auguro una buona gara eh simpaticissimo simpaticissimo tutti gli vogliono un sacco bene vero Assunta seppure trattenuto allora 800 e 1500 metri sono le sue gare detto che avremo anche un arbitro perché non ci facciamo mancare niente ed è Maurizio Zamponi che dirigerà le gare di basket in carrozzina per poco non siamo andati con la nazionale di basket di carrozzina perché lì avremmo avuto molti atleti marchigiani compreso l'allenatore Roberto Ceriscioli ma chiudiamo con una new entry nell'ambito del CIP ma molto importante con Michele Massa eccolo qui ciao Michele allora noi abbiamo conosciuto Bebe io e quella forse più famosa tra le schermitrici e adesso però noi stiamo conoscendo tantissimo te che ci stai regalando moltissime soddisfazioni e che insomma io te lo dico non da te insomma ci aspettiamo che vai avanti che ci puoi dire guarda allora sì stiamo preparando appunto questa Olimpiade ormai da parecchio tempo la qualifica è ormai due anni che va avanti e si è chiusa proprio da poco con l'ultima gara che c'è stata in Brasile sono di ritorno da due giorni fa dalla Polonia per una Coppa del Mondo e sì ti posso assicurare che comunque è solamente l'inizio del lungo percorso che voglio e vogliamo tutti quanti portare avanti tutte le persone che comunque mi girano intorno e mi aiutano in questo lungo percorso e spero in tutto spero di fare tutto il possibile per portare avanti questa strada con più successi farò di tutto ovviamente per tenerli possibili Fioretto e Spada? Sì sia Fioretto che Spada Qual è che preferisci se ce n'è una di arma Toma tranquillo preferisco il Fioretto aspetta c'è qualcosa in onda qua perché mi sento il CT di Spada è un macello perfetto no vabbè nasco con il Fioretto e poi sono stato trapiantato anche nella Spada perché appunto non è nella Paralimpica perché appunto nella Paralimpica si fanno due armi e appunto la seconda arma è stata la Spada ma nasco e il mio cuore è dedicato al Fioretto come Fioretto bene quindi porti avanti una tradizione consolidata nel tempo ricordo che la prima medaglia olimpica che abbiamo vinto è stata proprio nel Fioretto porta alla firma di Stefano Cerioni 1984 Los Angeles che saranno le prossime Olimpiadi quindi insomma però adesso pensiamo a questa intanto e a proposito di pensare a queste noi chiudiamo qui se siete tutti d'accordo però vi voglio dire che abbiamo una richiesta due per i colleghi giornalisti di ritirare questa brochure dove ci sono naturalmente i profili di tutti coloro che andranno alle Olimpiadi e Paralimpiadi tranne le due pallavoliste di cui vi ho parlato della De Gradi e della Giovannini però in tutto vi posso dire che saremo rappresentati da 20 delegazione di 29 unità alle Olimpiadi con 17 atleti che è il record applauso e ci saranno poi un dirigente il presidente della federazione Tecchi sei tecnici quattro sanitari e una giornalista e avremo sei del CIP con come ricordava Savo Iardi 4 atleti e un arbitro il totale 29 più 6 fa 35 un altro record ora uscendo tutti coloro in partenza per Parigi riceveranno una shopper con all'interno il libro le marche a 5 cerchi e anche la maglietta di Let's Mark che mi sembra giusto poi vi chiederemo con la taglia con un po' di X ecco un po' di X e tra l'altro uscendo riceverete questa borsa con dentro quello che vi ho detto libro e maglietta poi però ci porteremo all'esterno per realizzare una foto ricordativa celebrativa di questo appuntamento con il presidente della regione Francesco Acquaroli con l'assessore allo sport della regione Marche Chiara Biondi con il dottor Bruschini e con i presidenti di Cognacip Fabio Luna e Luca Savoiardi e con me che vi ringrazio tantissimo per la vostra partecipazione